Noooooooo Nooooooooooooooooooooooooooo Fanno preso di due NOOO Ciao a tutti amici, benvenuti in questo mio nuovo video Sono con Mr Regius E... Una nostra guerra con D-Giappone adesso... e sta andando più o meno bene, ma scoppia di nuovo, scoppia di nuovo perché ormai si sa che il giappone mente, il giappone è il traditore, come si sa, e attacca sempre, adesso infatti stava già costruendo le regate tutte, e ragazzi, spero che questa serie vi piaccia, come potete vedere i mongoli su qui, sto facendo un grand tier, la cosa non mi piace perché ho molta paura, perché qua ho visto che prima avevano ben 3-4 divisioni di arcieri, anche se sono composi, comunque sono arcieri, comunque sono divisioni, cioè unità, quindi potrebbe essere un problema, c'è la città di Riga, che è una città navale, nel senso che se io sono un amico di Miga, mi darà unità tipo navi, e non è che mi servono a tanto, però dipende, tipo con il giappone potrei anche usare, potrei anche diventare suo amico, però che senso avrebbe, Sidone l'avevo come Miga, però non potevo aiutarmi, perché sono troppo montante, secondo me, però, quindi sarà conquistata, Mr. Riga si è un po' molto bene, ma questo è una città, sono arrivata, si trova su un ottimo punto, con molte risorse, e dovrei resistere, secondo me, ha un'altra attacca, quindi fai molto attenzione, non c'è quasi nessuna arciera, cioè nessuna unità, no, eh, i miei arcieri li ha fatti una po' credi, li ho fatti diventare tutti i balestrieri, e io sono riuscito a, con una nuova politica, a fare una nuova, cioè a togliere da meno 6, a arrivare a meno 1 di felicità, e adesso guadagno più 27 di giorno, che? Oh no, i miei balestrieri, l'ha detto, un cavaliere. C'è un cavaliere che uccide tutti quanti, proprio, ma si, poi se ne va a diseggiare, isprudce, e tappoggio, tappoggio, tappoggio? Tappoggio. Eeeeh... mi sta facendo una damola, un diamo con questi deficienti. non è che migliorano che non mi prende non è che migliorano che non mi prende sento dei uomini strani ma non è che il tuo mi provano sono tipo un uomo strano c'è che non lo so senti un fu 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 fu? si e anche io lo sento non lo so forse è la connessione vabbè lo facciamo due a poco su questo episodio c'è questa seconda parte ma se io cosa faccio se vado sulla casella in cui c'è un grande generale ma io direi di attaccare però non so cosa succederà se cosa succederà non lo so solo che hai bisogno di truppe non lo so non so come te ne potrai mandare è un po' di fine perchè non ti posso neanche mandare niente è quello affatto vero se vuoi puoi affanare però non lo so se vuoi provo aspetta proviamo oh prima risolvere un po' qua allora qui troppo i balestrieri sono un po' lontani piccato se fossero antiprima per colpa mia non ho capito di lavoratori vabbè no non li prenderanno però se non mi attaccano le truppe riprende anche in grande attenzione altri picchiere a una fine cosa siamo essenzialmente e mettiamo con questi alcini vedi questo bene la prontezza che attacchi tuttavia fatto ciò se questi squadra cd che c'è qua e si trova una spada attacchi questi siamo ecco poi come si chiama i tuoi balestri che sono andata o attacchi picchieri o a cavalleria poi io di cui ciò anche con la città bombardo la barca e poi picchieri con i balestieri così poi il prossimo turno visto che non può capire cavaliere il faccio con il mio profeta arriva perché così mi faccio amico e ti potrei forse aiutare perché mi darà navi anche se non serve proprio di grande aiuto io ho fatto è complicato il fatto perché siamo troppo mondo è quanto è la mia mappa di boom mi paga gli stati uniti come ricordo assomiglia l'india si si come 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 forma geometrica come sicuro per raggiunti bene bene come che potessi fare adesso recutare anzi no comprare anche i banestrieri o un cavaliere perchè non ho un cavaliere, non ci si è riuscita fai tu 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 sto adesso di corpo adesso mi sento molto strano e anch'io si e siamo nel minne settecena di 35 dopo cristo e usiamo ancora le spade e le banestre nel minne settecentesimo ehm ehm che ironia sono passaggio passaggio vedessi oh oh quanto movimento mamma mia che altro è molto movimento non è non è che non è che però non c'è la vede con tanta gente piena stai stavolai sono forti sopporti rispetto ai miei spada due mani per risposta di domani spada cominciano amica sarò che già da cazzo 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 per una volta dove aiutato a fonti non diventa anche hanno saccheggiato i soldi e poi a chi vanno vanno a me capite oddio più 7 di felicità si si venite a me sento ma su siamo con una bella dogana e ci facciamo anche i soldi bene ottimo ottimo se facendo con una chiatra ok già faccio e giova tutti i giorni no ma c i giancini poi banestini vedi che già usati per i anna ok adesso ecco con di una pariocche a posto poi i green con spada attacchi samurai mi dite sconfitta minore allora metti in posizione di guarigione poi i banestini attacchi una catapunta perché quelle fondamentale poi con cui ma che sono da me per danno attacchi samurai così visto che insomma e poi lo hanno tipo in giro penso questi bicchieri i porti conti ok ho uno verso solo vediamo cosa dice se qui per informare pietà androni incazzato fate fare il suo ciclo mestrua fate valutolo vedeva e poi si torna il gioco perché c'è i suoi momenti capito lui è un po incazzato in questo gioco io ho preso due tattiche di combattimento e spionaggio per due volte nel senso ah a sì per no sì 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 Che cosa sta succedendo qua? Ora sta scappando di nuovo Chi mi sta attaccando qua? Ah ma sei in vinto No No Beh Allora I tu bambini se li c'è vicino ad Amsterdam Non vincendo amici Conta un po' più avanti e cerca di rompire la cata puntata Ti do Novanta serio Ecco qua Sono che ora vada più 29 Non capisco perché è che è fossa io sono in alto attenzione sei crashato davvero? attenzione mi ha scritto che sei crashato fermi 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 no ragazzi è se andiamo qua una partita e chiudiamo perchè non perchè fa tutto in processo mettano in nuovo online quindi salviamo una partita in queste condizioni fare uno screenshot fare qualcosa di controllo per sempre perchè poi ritorneremo ok? che cosa? è il video come ho detto ora lo screenshot ci attacco i content dicono che stiamo facendo perchè altrimenti ti trovi un po' in preparare fai qua un post ho capito cerchiamo sicuramente i nostri consigli questa volta visto che rego sono un bel ma un bel po' da fare in questo caso visto che ha una terza guerra da continuare mentre io sono qua con i miei bambini la terza guerra la terza guerra di seguito la terza guerra mi puo' olandese mamma mia si parla scusa no 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 la terza guerra di seguito non è che tipo vabbè no di seguito proprio tattata 10 giorni guardare il primo bambino eh dimmi 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 no 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 dimmi ah beh eh vabbè riusciremo mai a sconfiggere il Giappone? non si sa non si sa però ci sono buone speranze che questa volta che stia zitta in muta speriamo e vabbè con questo è tutto ciao ragazzi